La pioggia e il maltempo delle scorse settimane potrebbero tornare molto utili per il territorio piacentino. Lo rivela il report sulla situazione idrologica delle autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che ha rivelato come, in pochi giorni, le consistenti precipitazioni sono riuscite a gonfiare e a ricaricare le falde acquifere, garantendo in questo modo una risorsa importante durante il periodo estivo. Gli agricoltori allora potranno tirare un sospiro di sollievo in vista della prossima stagione in rigua. Niente salti mortali per irrigare i campi da quando la disponibilità idrica nel distretto del Po, dopo essere scesa fino a un minimo di 1689 m3 al secondo il 10 marzo, è risalita in tre giorni fino a raggiungere una portata di 2280 m3 al secondo. Lo stesso si può dire per le due dighe piacentine, quella di Mignano con un livello idrometrico pressoché costante sui 335,78 m e quella del Molato con 7,5 milioni di m3 d'acqua, pari al 98% del volume autorizzato. Il brusco ritorno alla normalità dovuto a maltempo e precipitazioni potrebbero consentire allora, secondo gli esperti, di schivare l'allarme siccità.